No, il paese non ha votato per il fascismo. Quello che vedo io, personalmente, è un paese che da ormai quasi dieci anni è alla ricerca del nuovo, senza però sapere cosa vuole diventare. Bentornati su WhatsApp Economy. In questa puntata parleremo del programma economico della Meloni e del centrodestra. Ovviamente i diritti sociali sono un mio grande interesse, ma direi di non occuparcene al momento. E vorrei solo aggiungere un'ultima cosa riguardo al rischio del ritorno del fascismo. Credo che rispetto a cento anni fa le istituzioni non solo nazionali ma anche internazionali siano molto più potenti e rafforzate e quindi questo rischio sia estremamente lontano. Spero di non sbagliarmi. Il mio video arriva dopo una settimana dalle elezioni e spero che il clima un po' si sia raffreddato in quanto sono stati mesi pieni di indignazione. E la politica senza indignazione, insomma, non c'è gusto, è come fare il sesso senza l'eiaculazione. Non avrebbe senso, no? Quindi cerchiamo di ritornare un po' razionali. In quanto il programma economico della Meloni e del centrodestra non è poi così disastroso quanti tanti vogliono raccontare. In quanto sono molto spesso robe già viste e questo non significa che funzioneranno, anzi, tutt'altro. Però sicuramente è un programma economico molto, ma molto meno scoppiettante rispetto a quello proposto nel 2018 dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Quello sì che era un momento in cui c'era da preoccuparsi. Invece in questo momento c'è una preoccupazione in quanto le politiche, come anche vedremo successivamente, non è che gioveranno tantissimo alla crescita economica, però sicuramente non porteranno il paese a un rischio di un probabile default come magari poteva essere quello del programma economico del 2018. Insomma, siamo su acque molto più tranquille e questo già è un elemento di conforto, se così la vogliamo mettere. Il fil rouge delle proposte economiche non solo del centrodestra ma anche di tutte le altre compagini politiche è quello molto propagandistico, in quanto si cerca sempre di aggiungere roba senza mai tornare indietro e vedere di sistemare tutto il disastro che c'è alle nostre spalle. Un esempio fra tutti di cui parleremo è proprio del reddito di cittadinanza. La Meloni propone di eliminare il reddito di cittadinanza e mettere un aggiuntivo che comunque sembra non risolvere tutte le problematicità del reddito di cittadinanza e quindi semplicemente si vuole solo mettere una bandiera al posto di un'altra conquista di un altro partito politico. Ecco, forse questo è uno dei più grandi problemi della politica italiana ma a parte questo sapete cosa non serve a questo paese? Flat tax, quota 100, sgravi fiscali ad custom e altre politiche abbastanza raffazzonate e indovinate cosa andremo a reattare oggi? Proprio queste politiche. Eh? Con questo non che gli altri partiti abbiano fatto molto meglio. Ah, la sempre citata lotta all'evasione capace di finanziare qualsiasi programma economico dal più piccolo al più dispendioso. Ecco, però queste, come se ne sono viste tante durante questa campagna elettorale e non solo, anche nelle scorse non sono delle reali proposte economiche. Gli elementi di una reale proposta economica sono i seguenti e cioè specificare cosa si vuole andare a correggere con quali strumenti e con quale modalità si vuole andare a correggere una determinata componente economica dello Stato con quali mezzi finanziari e quindi le disponibilità economiche e di spesa inoltre bisognerebbe specificare anche le tempistiche e soprattutto quali sarebbero gli output cioè i benefici che, dopo aver introdotto questa proposta economica il paese dovrebbe giovare. Questa sarebbe una corretta proposta economica da presentare al paese e che quindi potrebbe anche essere facilmente valutata non solo dagli economisti ma anche da tutta la popolazione che dovrà andare a votare quel partito eppure sempre più spesso non si fa questo procedimento ed escono delle proposte assolutamente aleatorie e poco concrete. A causa di questa problematica è anche molto complesso e forse anche un po' ingenuo andare a calcolare i costi di ogni singolo programma elettorale come ho visto fare anche su internet in quanto effettivamente non ci sono tutti questi elementi che ti fanno creare delle stime il più possibili affidabili. Oltre a tutto questo problema tecnico aggiungiamoci anche il contesto economico internazionale molto incerto e oltre al fatto che ovviamente probabilmente alla maggioranza non arriverà un solo partito ma una coalizione che dovrà fare ovviamente dei compromessi e quindi vedete come pian piano fare delle stime sul costo effettivo risulta essere sempre meno affidabile e quindi tanto vale non farlo. Ma lo so sono delle pretese troppo alte anche se in un paese normale dovrebbero esserci guardate al modello Olanda però rimaniamo umili e dobbiamo accontentarci con quello che c'è quindi iniziamo a reattare il programma economico della Meloni e del centrodestra. Iniziamo. Partiamo con il meridione argomento a cui tengo tantissimo in quanto credo fortemente che ricada tra i primi cinque problemi del paese e la coalizione del centrodestra affida a questo problema le risorse del PNRR per la sua risoluzione anche se come abbiamo già visto in un precedente video le risorse del PNRR non sono assolutamente sufficienti per risolvere la questione meridionale questione meridionale che presenta dei divari territoriali tra nord e sud addirittura tra il 20 e il 50% quindi le proposte del centrodestra sono assolutamente insoddisfacenti e tra l'altro non inquadrano neanche molto bene il problema in quanto molto spesso si fa riferimento a degli sgravi fiscali per il sud per risollevare l'economia anche se il fisco all'interno del meridione è l'ultimo dei suoi problemi purtroppo FISCO! Qui ovviamente come tutti gli altri partiti il centrodestra inquadra il problema e cioè abbiamo un fisco troppo oneroso per i lavoratori ma insomma un po' tutti i cittadini è troppo complicato peccato però che le risposte a questi problemi che sono individuati correttamente sono piuttosto insoddisfacenti in quanto sono delle proposte anche qui c'è un po' il problema che abbiamo citato all'inizio quindi proposte molto aleatorie che parlano di sgravi fiscali, incentivi, lotta all'evasione eccetera eccetera senza andare nel dettaglio e sul punto e sul merito a capire come risolvere questo problema come ad esempio abbiamo fatto in un video in cui abbiamo parlato di alcune proposte che potrebbero effettivamente non solo semplificare la questione del fisco ma anche abbattere l'IRPEF soprattutto per i lavoratori del ceto medio ecco non ci sono delle proposte così inerenti e quindi anche in questo caso le proposte del centrodestra sono insufficienti per risolvere il problema del fisco per non parlare di un classico italiano e cioè i condoni politica assurda che io ancora non ho capito come si faccia a metterla all'interno di un programma politico però sappiamo che per il centrodestra è un tema molto caldo FLAT TAX ecco come vi dicevo prima al paese serve tutto tranne che la FLAT TAX nonostante ciò la si ripropone ormai dal 2018 nell'interno dei programmi politici del centrodestra in quanto si prende un problema reale e cioè un fisco troppo complicato e si cerca di risolverlo tramite una risposta semplice cioè fare un'unica aliquota per tutti questo è un problema molto grande sotto diversi aspetti da un primo aspetto soprattutto derivante da un principio cioè quello dell'imposizione progressiva in quanto rispetto al sistema scaglioni una FLAT TAX unica rimane comunque progressiva ma in una misura molto inferiore rispetto al sistema vigente e quindi facciamo un po' dei passi indietro oltretutto la FLAT TAX non funziona a livello economico in quanto le entrate da parte dello Stato dopo aver introdotto la FLAT TAX sicuramente diminuiranno e la storia di Laffer la curva eccetera eccetera non è mai stata dimostrata ad oggi quindi ci ritroveremmo dopo la FLAT TAX con un paese con un grosso deficit ma i partiti politici una volta proposta la FLAT TAX non dicono anche come ridurre questa eventuale spesa che non potrebbe più essere finanziata attraverso quel sistema fiscale e questo è un altro grande problema della FLAT TAX in quanto si cerca di ridurre la pressione fiscale senza però controbilanciare le spese dello Stato cosa che dovrebbe essere ovviamente necessaria ma oltre a tutto ciò c'è anche una questione di buonsenso i paesi che hanno introdotto una FLAT TAX sono la Russia paesi dell'est insomma paesi in via di sviluppo o sottosviluppati perché noi Italia dobbiamo andare a vedere a sistemi fiscali introdotti in paesi in via di sviluppo o sottosviluppati che tra l'altro hanno una spesa pubblica molto più bassa rispetto alla nostra e non semplicemente adeguarci a degli standard dei paesi occidentali che sarebbe una cosa molto più semplice da applicare e anche molto più tranquilla per le finanze pubbliche no dobbiamo vedere alla Russia che non c'entra un H con noi invece di adeguare il nostro sistema fiscale a che ne so qualsiasi altro paese occidentale che abbia un minimo di sistema fiscale funzionante no questo è troppo complicato come ragionamento lo so lo capisco la Meloni tra l'altro nel processo di introduzione completo della flat tax ha cercato di introdurre anche la flat tax incrementale e cioè una flat tax ad esempio del 15% non per l'intero reddito del lavoratore ma per il reddito in più che ha guadagnato da un anno all'altro costruendo effettivamente una flat tax incrementale ecco anche questa proposta è abbastanza discutibile in quanto i benefici fiscali per i lavoratori sono estremamente pochi inoltre introduce dei comportamenti opportunistici non solo da parte dei lavoratori ma anche per le imprese per approfittarsi di questa nuova eventuale proposta economica quindi anche una eventuale flat tax incrementale è assolutamente bocciata ma adesso parliamo di scuola lo sapete che secondo alcuni studi l'aumento dei salari dei lavoratori all'interno di uno stesso paese è imputabile addirittura per un terzo a fattori riguardanti l'istruzione e inoltre i differenziali retributivi tra un paese e l'altro sono addirittura imputabili per un 50% a fattori come quello dell'istruzione quindi nei social vedo molti che si lamentano dei salari in Italia bassi beh questo è abbastanza probabile che derivi da una popolazione abbastanza stupida dobbiamo andare a patti con la realtà detto ciò quindi è importante valutare anche i programmi elettorali per quanto riguarda la scuola dei partiti per quanto riguarda il centrodestra uno degli obiettivi è quello di rafforzare gli istituti tecnici che potrebbe essere una buona politica in quanto sono molto importanti per creare una classe lavoratrice all'altezza con le competenze che richiede l'attuale mondo del lavoro un'altra proposta è quello del superamento dell'alternanza scuola lavoro ora anche qui l'alternanza scuola lavoro potrebbe avere delle criticità ma sicuramente come sottofondo un grande potenziale cioè quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro ad esempio capire effettivamente cosa potrebbero fare da grandi e anche qui si vede chiaramente come l'intento non è quello di cercare di migliorare una proposta politica che potrebbe avere delle sue criticità ma cercare completamente di abolirla per mettere la propria banderina sul fatto di appunto propagandare una scelta economica così forte che all'interno del dibattito pubblico è sentita molto oltre a queste due proposte non c'è poi così tanto di concreto ricadiamo sempre nel problema delle proposte molto aleatorie quindi difficilmente inquadrabili e quindi è anche difficile capire se potrebbero avere degli impatti positivi o meno ma adesso parliamo di noi cioè dei giovani cosa vuole fare il centrodestra per noi beh purtroppo anche qui ben poco in quanto ancora una volta si propone una soluzione che abbiamo parlato più volte in questo canale come può risultare del tutto inefficace e cioè questo benedetto mi scende anche la voglia nel parlarne ricambio generazionale anche grazie a quota 41 che tra l'altro dovrebbe scomparire dall'anno prossimo vediamo poi cosa si inventano non esiste nessun ricambio generazionale se tu giovane non stai trovando lavoro e te la prendi con tuo padre o con l'amico di tuo padre beh c'è una grande incomprensione di come funziona l'economia un'economia che cresce dà disposizione posti di lavoro sia per i vecchi ma anche per i giovani e non c'è questa diatribe questo conflitto per trovarsi i posti di lavoro anche perché difficilmente qui anche qui non si pensa poi all'atto pratico difficilmente un neoassunto che può essere un giovane andrà a sostituire un manager navigato che magari è andato al momento della pensione e quindi come vedete le due posizioni non sono contendibili dalla stessa platea di lavoratori un'ulteriore prova che questo famosissimo mi sa per dire un'altra parola ricambio generazionale non funziona e dobbiamo staccarci da questa idea il prima possibile se vogliamo proporre delle proposte economiche per i giovani effettivamente funzionanti vi prego collegate ai giovani ci sono le politiche per le pensioni cosa si vuole fare un po' in merito si è riproposto l'introduzione di una quota 100 aggiornata quota 41 eccetera eccetera ma cosa ci dice l'inps riguardo a quota 100 non appaiono evidenze chiare di uno stimolo alle maggiori assunzioni da parte dell'anticipo pensionistico tantomeno quindi alle assunzioni dei giovani quindi questa nuova proposta di introdurre delle quote 41 o altro per incentivare non solo i pensionati ma anche i giovani non hanno nessun senso né per una parte né per l'altra per la prima parte quella sui giovani ne abbiamo già discusso sulla seconda parte se andiamo a vedere i dati in realtà la proposta economica di quota 100 non è risultata così tanto conclamata e diffusa all'interno dei cittadini quanto ci si aspettava quindi in realtà risulta essere una proposta estremamente costosa e per poche persone che poi andranno effettivamente ad utilizzare questo strumento economico quindi invece di cercare di rendere il più sostenibile le casse dell'Inps cercando di limitare le persone pensionate si fa l'esatto opposto rispondendo a dei problemi concreti nella maniera più sbagliata possibile un ultimo argomento che vorrei discutere con voi riguarda il tema della famiglia anche qui si è sentito di tutto da parte sia del centro sinistra che del centro destra spero di parlare per voi giovani e io vi dico che il problema dei giovani non è l'acquisto della prima casa non è l'andare in pensione degli altri vecchi non è niente di tutto ciò il problema dei giovani è cercare di trovare un lavoro il prima possibile che sia soddisfacente e in linea con le competenze che abbiamo acquisito nel nostro percorso formativo e che ci dia un reddito capace di poter vivere in questa benedetta nazione se abbiamo tutte queste componenti l'acquisto della casa l'eventuale farsi una famiglia fare 5.000 figli o tutto il resto viene naturalmente da sé e invece cosa fanno i partiti politici per cercare di risolvere questi problemi familiari cercano di risolvere questi problemi non alla fonte come abbiamo fatto noi attraverso questa analisi cioè risolvere questo cavolo di problema di occupazione e di redditi ma cercano di dare qualche tipo di incentivo sgravo fiscale per acquistare la prima casa o altro per rendere la nostra situazione meno gravosa ma ce la rendi meno gravosa non ce la risolvi questa situazione e questo è il problema in questo caso di tutte le compagini politiche riguardo ai problemi della famiglia non risolvono effettivamente il problema ma cercano di mettere dei tappabuchi a delle situazioni abbastanza difficoltose e ovviamente stai semplicemente calciando la pietra e rinviando il problema alle prossime elezioni cosa che secondo me un partito politico non dovrebbe fare in sostanza i partiti sembrano essere consapevoli dei problemi che abbiamo ma o non li sanno risolvere o non li vogliono risolvere quindi ci danno delle proposte alternative ma che sicuramente non risolvono la nostra situazione queste sono le principali componenti del programma economico del centro-destra come vedete sono tutte robe già viste ma diciamo più graduate e meno eclatanti rispetto a quelle del 2018 quindi l'Italia continuerà a fare schifo ma sicuramente attraverso queste politiche non ci sarà un collasso totale dell'economia come vi dicevo tra l'altro la Meloni ha dichiarato molte volte in questa campagna elettorale che supporterà l'euro supporterà le istituzioni europee eccetera eccetera insomma mi sembra essere molto più garantista riguardo all'ambito economico rispetto a quanto lo era ad esempio la Lega di Salvini o di 5 Stelle nel 2018 in tutto ciò però ho visto che secondo me non c'è in questo caso una risposta concreta ai problemi economici dell'attualità e cioè alla crisi energetica a una probabile recessione che potrebbe arrivare tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo insomma a questi problemi in realtà all'interno del programma politico non si fa molto riferimento ora non so se la Meloni non sia consapevole di cosa l'aspetterà da novembre in poi oppure non sa dare delle risposte che un po' è anche diciamo giustificabile in quanto sono dei problemi soprattutto in ambito internazionale e l'Italia come paese singolo non è che può fare tantissimo sicuramente una cosa che potrebbe fare Giorgia Meloni è evitare le politiche economiche ad esempio adottate all'interno del Regno Unito in quanto la recessione probabilmente arriverà o insomma qualche problema economico sarà dura e sarà impossibile da evitare quindi un buon governo sarà capace al massimo di limitare i danni però dei danni probabilmente arriveranno e in questo processo non ci sono sufficienti indicazioni da parte della Meloni detto ciò ecco a voi la mia reaction al programma elettorale del centro-destra spero di avervi dato qualche spunto di riflessione e noi ci vediamo al prossimo video ringrazio tutti e soprattutto quelli che mi sostengono anche economicamente alla prossima ciao ciao